Che meraviglia! Roberto che settimana, una settimana magnifica, sei stato un grande protagonista di questo torneo, di questa quarta edizione dell'Internazionale di Cortina che hai vinto in un modo spettacolare contro Geralt Melzer. Quanto sei contento? Molto contento, la verità che sì, è stata una settimana molto, molto speciale, ha avuto partiti molto duri, come il di Arnavoldi, il di ayer con Marcel fu molto durissimo e la verità che il partito di oggi ha stato uno dei migliori della mia vita, per non dire il migliore, perché la verità che mi ha salito tutto, sentia che non poteva fallare una pelota e molto contento. Non gli hai lasciato spazio di entrare mai in partita oggi? Sì, la verità che, come hai detto, mi ha salito tutto, mi incontrava molto comodo dentro della pista, mi ho posto per arrivo nel marcador molto rapido e questo ha fatto entrare un po' con prisa e a fallare un po' più di quello normale, però molto contento e a seguire in questa linea. Una grande preparazione fisica, bisogna anche ringraziare il tuo coach, perché giocare in altura non è facile. Sì, non è facile, ma la verità che questo anno già in Quito, che aveva molta altura, ha fatto un buon risultato, mi sento comodo giocando in altura e la verità che l'anno passato anche giocava molto bene e sono molto contento di questa settimana. Una settimana a Cortina, ci tornerai anche in vacanza? Spero che sì, se posso, mi gustaría venire in invierno e vedere come sta tutto nevato, sarebbe molto bello. Roberto, abbiamo incominciato sabato con in campo i bambini, sei stato con noi un'ora, non è da tutti stare in campo un'ora con i bambini, sei stato veramente un tesoro con tutti quanti noi, siamo noi a ringraziarti tantissimo. Grazie a voi, è un piacere e la verità che quando la gente ti tratta così bene e ti muestra cariño, si può fare un clinico e tutto lo che ha fatto. Grazie a tutti! Come possiamo dire? Durante tutto il weekend ho avuto un grande supporto e sono molto scoperto di non darevi il finale che ti riservi oggi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!